Adesso andiamo a Messina, gli ordini professionali, il mondo della scuola, gli esercenti insomma sono tutti contro la nuova ordinanza di Cateno De Luca. Sulla pagina Facebook di Cateno De Luca stavolta è un coro di no, una percentuale di commenti negativi sull'ordinanza che venerdì scorso ha disposto alla chiusura anticipata dei negozi e la sospensione delle lezioni in presenza in tutte le scuole che si avvicina al 90%. Sui social è una vera e propria rivolta da giorni ma a prendere posizione sono state anche le categorie interessate, rappresentanti di gestori di bar e ristoranti avevano già manifestato il loro disappunto prima della firma dell'ordinanza, adesso sono arrivate anche quelle degli ordini professionali, avvocati, commercialisti, notari, ingegneri e architetti sono entrati a gamba tesa lamentando la mancata concertazione ed evidenziando come il coprifuoco alle 19 impedisca di fatto il ricevimento negli studi professionali. Certo da noi è difficile che possano avvenire assembramenti perché noi gli appuntamenti li prendiamo in maniera organizzata sull'intera giornata e è una cosa ripeto che non è che danneggia i professionisti, è una cosa che è un disagio per i cittadini. A contestare anche alcuni consiglieri comunali che stanno preparando un ordine del giorno con la richiesta di tre modifiche all'ordinanza, allungamento dell'orario di chiusura dei negozi, asporto di cibo consentito fino alle 22, stesso orario per il ricevimento negli studi professionali. Tre semplici richieste ma che sono molto importanti per dare un momento di sollievo alle attività economiche e alle imprese di questa città che purtroppo stanno patendo tantissimo in questa fase di crisi da pandemia. De Luca che continua a difendere la sua ordinanza evidenziando la difficoltà del sistema sanitario messinese sembra aver scontentato tutti, anche il mondo della scuola non l'ha presa bene. Sono i dati diffusi dal comune e quelli in possesso dell'ASP e dell'ufficio scolastico provinciale ad essere non congruenti tra loro. Il comune parla di una sessantina di contagiati, l'ASP e l'USP di 47 su una popolazione scolastica di 24.000 studenti, numeri che non giustificherebbero la sospensione della didattica in presenza.